ho preparato la pizza utilizzando il messier chiusi in connetto ho fatto un impasto a lievitazione lunga con solo due grammi di lievito di birra mi scuso con tutti coloro che sono amanti della vera pizza napoletana o della pizza comunque fatta d'arte perché questa è solo una mia interpretazione di un impasto fatto con il robot a cucina e sicuramente non è una ricetta di tipo professionale ma vi consiglio comunque di provarla perché è buonissima guardate la ricetta che seguire tutto il procedimento gli ingredienti per la nostra pizza sono 500 grammi di farina per pizze 325 grammi di acqua fredda 15 grammi di sale 2 grammi di lievito poi useremo un cucchiaino di zucchero e due cucchiai di olio extravergine di oliva come prima cosa andiamo a mettere nel bottale l'acqua il cucchiaino di zucchero deve essere abbastanza abbondante e il lievito dopodiché impostiamo un minuto a 37 scusate a velocità 137 gradi terminata questa fase mettiamo la farina ed impostiamo la funzione automatica impastare andiamo a due minuti invece che 45 secondi settati e diamo il via adesso mettiamo i due cucchiai di olio non molto abbondanti stavolta il sale ed impostiamo la funzione sempre impastare stavolta lasciando però 45 secondi l'impasto è terminato lo andiamo a rovesciare su un piano io sono un piano in legno per andare a lavorare ancora un po con le mani l'impasto è abbastanza appiccicoso quindi ci possiamo aiutare con della farina abbiamo così rovesciato l'impasto vedete un po appiccicoso io per lavorarlo preferisco piuttosto che usare la farina un germine mani d'olio perché altrimenti se usiamo troppa farina poi rischiamo di indurirlo allora lo lavoriamo un po sul nostro piano di lavoro formiamo il panetto e lo andiamo a mettere in una ciotola il nostro panetto è quasi formato eccolo vedete adesso vado ad oleare una ciotola in maniera abbastanza abbondante anche su tutti i bordi posiziono il panetto vedete guardate c'è già una bolla qui bollati lievitazione e lo metterò nel mio caso a lievitare siccome sto impastando sono circa le 18 del pomeriggio lo metto a lievitare tutta la notte in frigo domani mattina lo tirerò fuori per la seconda lavorazione ci vediamo domani mattina abbiamo tolto il nostro impasto dal frigo dopo tutta la notte adesso andiamo a lavorare un po con le mani e lo rimettiamo a lievitare stavolta la lievitazione sarà molto molto lunga perché diciamo ci vorranno circa 8-10 ore la pizza è lievitata adesso andiamo ad un po con le mani e lo rimettiamo a lievitare sempre nella nostra ciotola come vi ho appena detto eccolo nella ciotola ci vediamo tra circa 8 10 ore la pizza è lievitata adesso andiamo ad un aggiungere una leccata da forno io la ungo sempre con parecchio olio e vado a rovesciare il contenuto della nostra ciotola con molta molta attenzione per non sgonfiarlo perché ci sono moltissime bolle non lo vorrei sgonfiare adesso piano piano vado ad estendere sempre aggiungendomi per pastelli la mia pizza fino ai bordi piano piano cercando di non sgonfiarla piano piano arrivo fino ai bordi intanto ho messo a presi scaldare il forno alla massima temperatura possibile nel mio caso sono 250 gradi la pizza è stessa adesso la vado a condire la dividerò in tre gusti una parte margherita una parte amatriciana con guanciale pecorino e pepe e una parte bianca crostino con mozzarella e prosciutto cotto il forno il mio forno è già arrivato a temperatura quindi terminato di condirla andrò ad informare ci vediamo dopo vedete la pizza è condita adesso la vado a mettere in forno nel ripiano più basso per circa dieci minuti successivamente la sposto nel ripiano centrale la pizza è pronta adesso vado a farne una fetta per farvi vedere l'interno ecco ne una fetta vedete molto lievitata molto leggera e digeribilissima perché pochissimi grammi di lievito di birra una lievitazione molto lunga e spero la ricetta vi sia piaciuta e mi scuso di nuovo con i puristi della pizza per tutte le imprecisioni che sicuramente avrò commesso nel realizzare questo impasto e vi invito se comunque vi è piaciuta la ricetta a mettere un like vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it vi invito ad iscrivervi al gruppo facebook Messier Cruising Connected Plus Italia e soprattutto ad iscrivervi a questo canale in cucina con Messier e buona pizza a tutti